Badanti sempre più precarie ed invisibili e rigettate nel gorgo pieno dell'illegalità da un decreto sicurezza che per loro e per le famiglie che assistono è in realtà sinonimo di insicurezza assoluta. Solo nel Padovano le ACLI hanno incontrato negli ultimi sei mesi più di 1200 famiglie in cerca di sostegno e di rassicurazioni. La nostra legislazione da alcuni anni rende molto complicato fare ingresso regolarmente per lavorare. Quindi la clandestinità è in parte, in buona parte, necessitata dalla stessa normativa e questo non da oggi, quindi si tratta di una questione che riguarda le ultime legislature e governi di diverso colore. Le famiglie si sentono abbandonate dalle istituzioni e oggi con l'ultimo disegno di legge sulla sicurezza si sentono particolarmente insicure perché capiscono, si rendono conto che possono essere oggetto di denuncia penale, di procedimenti penali e quant'altro. Una richiesta d'aiuto che nasce dalla paura di non poter più contare sul sostegno di chi ormai è divenuto di famiglia, persone ormai italiane di fatto ma non di diritto e che crescono nei numeri mese dopo mese. Le lavoratrici domestiche in cerca di lavoro che si rivolgono agli sportagliacli di Padova sono sostanzialmente decuplicati in un anno ed ogni mese se ne contano circa 700. Nel 70% dei casi arrivano dall'est europeo, le altre arrivano da Filippine, Nigeria, India, Sri Lanka, Marocco e Tunisia. Chiedono di poter lavorare nelle nostre case assolvendo compiti di cura e di assistenza che la macchina pubblica non sa garantire, ma ora la legge le esiglie nell'illegalità senza possibilità d'appello, nonostante l'oggettiva necessità della loro opera e nonostante i vincoli d'affetto e di fiducia a frutto spesso di anni e danni di frequentazione quotidiana con i soggetti più deboli della nostra società. Secondo i dati delle ACLI, nella sola provincia di Padova sarebbero più di 5.000 le lavoratrici domestiche e clandestine, un piccolo esercito di invisibili cui si aggiunge la quota in costante aumento delle donne italiane in cerca di un'occupazione, spesso per compensare gli stipendi di mariti e figli senza più lavoro, un universo di cui governo e Parlamento devono farsi carico nella sostanza, secondo le ACLI, e non solo negli eslogan. Anche nell'ultima campagna elettorale nazionale si è parlato molto della famiglia, dell'inserimento del quoziente familiare, tutte proposte che ancora devono vedere la luce e su cui le ACLI da sempre si spendono. Quindi speriamo che quello che è un nostro modesto contributo, come dire, possa aiutare la politica a uscire un po' dalla logica degli slogan e occuparsi di quello che sarà la società di domani, che però è già oggi qui tra noi.